Buongiorno, sono Nilde Moretti, sindaca del Comune di Solaro. Sono qui oggi per illustrarvi un intervento che è stato realizzato nel mio comune grazie al progetto Life Metro Adapt. L'intervento è stato realizzato in un parcheggio pubblico di nostra proprietà davanti a un centro sportivo. Aveva come obiettivo quello di contrastare gli effetti climatici che sono sempre più dirompenti, soprattutto in questa epoca storica. Il progetto era di un carattere di ingegneria ambientale volto a ridurre l'apporto delle acque meteoriche nella fognatura mista. Un progetto realizzato in collaborazione con Città Metropolitana, Cap Holding e Legambiente. Importante è stata anche la sensibilizzazione verso la cittadinanza, perché si tratta di un intervento pilota. Noi siamo un piccolo comune, ma questo ci ha reso veramente orgogliosi, perché è un metodo innovativo di politica green, la cui delibera è stata approvata nel 2019, proprio per attuare strategie che imitano la natura e che siano di basso impatto ambientale. Ci auguriamo che questo sia un intervento replicabile in altri comuni che abbiano magari le caratteristiche come il nostro. L'intervento sicuramente risponde agli obiettivi di lotta contro il cambiamento climatico, soprattutto quando riguarda le grandi alluvioni che colpiscono il nostro territorio. Partnership per gli obiettivi, perché è stato realizzato in collaborazione con Città Metropolitana, Cap Holding e Legambiente. E' acqua pulita e servizi igienico-sanitari, proprio perché riguarda la riduzione delle acque meteoriche che convogliano nell'impianto di fognatura missa. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Città Metropolitana, Cap Holding, Legambiente e GEOS, Ambiente Italia, ALDA.